Analizzare l'economia del territorio e mettere a confronto gli strumenti a disposizione delle imprese per affrontare la crisi, da quelli tradizionali ad alcune forme innovative. Sono stati gli obiettivi del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala consigliare del comune di Montesilvano tra i relatori il presidente della BCC di Cappele sul Tavo Michele Borgia e il direttore della BCC di Castiglione Messerraimondo Samuele Di Giampaolo che hanno sottolineato come solo il 35 per cento delle imprese del territorio hanno registrato aumenti di fatturato e come si è scesa la domanda di prestiti delle piccole e medie imprese. Si è parlato poi di sistemi di finanza innovativa come i circuiti Sardex avviato in Sardegna e Abrex in Abruzzo con la messa in rete di beni e servizi tra le aziende aderenti. Un sistema nuovo creato per dare un'opportunità di rilancio specie per aziende in difficoltà di liquidità. Abrex nasce da un problema, la difficoltà di eccesso al credito, la difficoltà per le imprese di poter effettuare investimenti. Con Abrex scoprono l'opportunità di tornare a scommettere sulla propria capacità di produrre economia, sulla propria capacità di produrre investimenti e quindi questa è stata una grande opportunità soprattutto poi poter avere con noi il fondatore di Sardex, Gabriele Littera, che ci ha illuminato con una strategia che sta guardando molto e oltre i confini regionali che ci permetterà a breve di poter offrire alle imprese che si iscrivono, che si stanno iscrivendo al nostro circuito, di poter avere nuovi clienti anche al di fuori di confini regionali e magari trovare nuovi fornitori da poter pagare risparmiando liquidità. È un periodo di grossa crisi per quanto riguarda il tessuto economico dell'Abruzzo ma un po' di tutto il contesto europeo. Vogliamo dare anche il nostro contributo per cercare di trovare delle soluzioni o comunque indicare delle strade percorribili a tutte quelle imprese che vogliono continuare a investire nel nostro tessuto economico. Grazie a tutti. Grazie.